Buongiorno, buongiorno a voi. Mi auguro che abbiate iniziato bene questo 2020. Forse la maggior parte di voi saranno ancora in vacanza a godersi anche un meritato riposo. Ora io, insieme alle persone che collaborano con me, ho continuato ad occuparmi del progetto, il progetto che ci vede tutti quanti impegnati per poter realizzare quello che è un sogno che deve però diventare realtà e cioè di manifestare tutto il centrodestra ma in tutte le regioni d'Italia. Perché ci siamo detti più volte che non sempre tutti hanno la possibilità per ragioni di famiglia, per ragioni di lavoro e anche economiche di fare centinaia e centinaia di chilometri per raggiungere il luogo della manifestazione. Ora ho anche avuto modo di dirvi nell'ultimo video, il 31 dicembre, che abbiamo dovuto spostare la data in quanto è uscita la notizia, anche se non è ancora ufficiale, che Matteo Salvini, la Lega e tutto il centrodestra faranno una manifestazione il 18 di gennaio a Maranello-Modena a conclusione della campagna elettorale in Emilia-Romagna a sostegno di Lucia Borgonzoni. Ed è chiaro che a questo punto era giusto fare un passo indietro, anzi invito tutti quelli che hanno la possibilità di andare a Maranello, io chiaramente ci sarò per sostenere la grande Lucia a vincere questa sfida contro Bonacini. Ricordiamoci sempre però che è altrettanto importante, e questo forse è un po' un peccato direi, non so come definirlo, il fatto che si è parlato meno della Calabria, per qualche ragione comprensibile, chiaramente perché il voto dell'Emilia inciderà in maniera determinante anche sulla vita di questo governo, ma io credo che le elezioni in Calabria siano molto molto importanti. Noi continuiamo a avere un problema sud, un problema che credo meriterebbe di essere affrontato finalmente in maniera differente da come è stato fatto in questi ultimi vent'anni. Però torniamo a noi. Quindi, ripeto, abbiamo dovuto cambiare la data. Io ve la voglio annunciare subito. Quella che è la mia idea, ripeto, è la mia idea. Però è importante che io la dica subito, per tutta una serie di motivi. Perché arrivi alle orecchie dei politici, dei media, perché non ci sia poi un sopraffollamento delle date, perché altrimenti poi, ripeto, abbiamo di nuovo gli stessi problemi. La data che ho in mente è il 9 di febbraio, quindi due settimane dopo le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria. Credo che sia una data buona, strategicamente, perché viene, appunto, dopo le elezioni importanti e a seconda del risultato potrà essere strategicamente avere un peso, questa manifestazione il 9 di febbraio. Ripeto, questo è il nostro obiettivo. Ci stiamo lavorando. Ora, noi tutti i giorni cerchiamo di far arrivare questa nostra voce ai politici, ai media, proprio in virtù del fatto che, come ho avuto più volte modo di dirvi, io sono il signor nessuno. Sono una persona normalissima che ha colto sul web e nei social questa esigenza da parte dell'elettorato del centro-destra di manifestare avendo la possibilità di farlo e non essere costretti, lo ripeto, fino alla nausea, di fare centinaio e centinaio di chilometri. Ora, noi abbiamo anche lavorato in questi dieci giorni per arrivare a far sentire la nostra voce alla politica che conta. e direi che dopo dieci giorni ci siamo in qualche modo riusciti, in particolare ci è riuscita la nostra coordinatrice del Piemonte, che è riuscita a contattare un deputato del nostro Parlamento, tra l'altro uno di quelli più in vista, ha dei ruoli importanti, uno di quelli più conosciuti. Ora, io vi voglio leggere affinché voi possiate farvi un'idea quello che lui ci ha scritto e quella che poi è stata la mia risposta, senza chiaramente menzionarvi chi è il personaggio politico perché non ho interesse di fare polemica. Ora, questo deputato ci ha testualmente scritto Abbi pazienza rivolgendosi alla coordinatrice del Piemonte Apprezzo l'impegno Ma come può uno, riferito a me, che fa un video con mille visualizzazioni, pensare di organizzare una manifestazione non dico in tutta Italia, ma anche solo in una sola città? Non potrei io e un mio tweet a centomila visualizzazioni? A questo politico io ho risposto risposte che poi è stata inoltrata dalla coordinatrice del Piemonte in questa maniera Egregio Onorevole Lei ha perfettamente centrato il problema proprio in virtù del fatto che io sono il signor nessuno chiediamo un aiuto perché faccio una parentesi se fossi stato un uomo conosciuto un uomo che ha potere anche solo economico probabilmente non avrei chiesto perché non avrei avuto bisogno un aiuto dalla politica e dai media Allora, un aiuto avendo colto nell'elettorato di centrodestra una forte esigenza di poter manifestare senza avere spesso la possibilità a causa di molteplici ragioni di poterlo fare le ragioni che vi ho elencato prima che voi ormai conoscete molto bene Sicuramente il progetto non si fermerà faccio un'altra parentesi perché se avete visto ormai, come è giusto che sia ci sono molti che sono in fermento stanno cercando di organizzare Peccato che magari se ci uniamo un po' tutti quanti la cosa sarebbe un po' più semplice ma purtroppo in parte sta avvenendo e in parte no Ora stavo dicendo sicuramente il progetto non si fermerà con il rischio che senza un aiuto diventi un flop perché è chiaro che se non ci saranno i numeri diventerà un flop Ora continuo dicendo chiaramente non sarò io a rimetterci perché magari qualcuno di voi mi insulterà sul web e finirà lì dopo qualche giorno ma tutto il centro-destra avrà dimostrato di non avere la capacità di portare il suo elettorato nelle piazze questo almeno l'immagine che daremo anche alla sinistra che chiaramente ci attaccherà facilmente quindi il messaggio credo che sia molto chiaro cioè ha ragione l'onorevole quando sottolinea queste cose io sono il signor nessuno credo che però ho anche dimostrato di non essere un presuntuoso chiedendo l'aiuto di tutti voi aiuto che è arrivato perché io ho visto ho potuto notare sui social che questo aiuto è arrivato ma non è sufficiente non è sufficiente perché abbiamo bisogno anche della politica e abbiamo bisogno anche dei media ma abbiamo bisogno della politica solo per ragioni organizzative e perché il messaggio arrivi chiaro e forte all'elettorato di centrodestra perché per il resto noi non chiediamo l'intervento dei politici non ci saranno comizi non ci saranno bandiere di partito ma solo bandiere italiane a chi si fosse perso alcune cose che ho potuto comunicarvi alcune iniziative che ritengo veramente particolari e di forte impatto abbiamo contattato quello che è il meglio della cultura italiana ad esempio la musica lirica abbiamo contatto con tenori soprani l'idea è quello che questi tenori di fama nazionale possono aprire le manifestazioni con l'inno nazionale e noi poi tutti dietro e la stessa cosa per la conclusione della manifestazione ho l'idea e ho contatti con il mondo dei disabili per portare per la prima volta in piazza i disabili ma non solo ma anche i pensionati perché sono quelli che sono stati trattati peggio nella manovra finanziaria ho l'idea di portare la cultura in piazza abbiamo delle idee magnifiche abbiamo bisogno di un'idea scusate abbiamo bisogno di un aiuto e che la politica ci supporti credendo in questo progetto questo è quello che noi stiamo perseguendo e questo quello che noi chiediamo alla politica con questo io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani grazie a tutti Grazie.